Ti sei mai chiesto qual è il ruolo del sesso come strumento per riuscire a comprendere la bontà della tua relazione sentimentale? Il ruolo del sesso come cartina torna sole della bontà, appunto, dello stato di salute della relazione. Qui non sto parlando ovviamente di rapporti occasionali o di relazioni superficiali, parlo di storie serie, parlo di relazioni sentimentali e anche di una certa importanza. E non sto neanche parlando delle frasi fatte come ormai siamo insieme da tanto, la passione non è più la stessa, piuttosto che il sesso è diventato monotono, è sempre più raro e quindi in un qualche modo non siamo più felici. Parlo di come molto spesso vengono sviluppati dei sintomi sessuali, quindi delle disfunzioni, delle difficoltà sessuali a fronte di elementi, a fronte di vicissitudini che la coppia si deve trovare, si trova meglio ad affrontare. Ad esempio parlo di disfunzione erettile, piuttosto che dolore durante il rapporto, nel momento in cui si decide di cercare un figlio, quindi di diventare genitori, piuttosto che del ritiro sessuale, quindi con il calo del desiderio da parte di uno dei due, nel momento in cui ci sono dei conflitti irrisolti extrasessuali. Ovviamente ad esempio mi è capitata una coppia che non riusciva più a far sesso dal momento in cui hanno deciso di comprare casa e sono entrati in un ginepraio di discussioni, problemi e questa cosa sostanzialmente li ha progressivamente allontanati. Nonostante professassero il loro amore non riuscivano ad avere dei rapporti proprio perché il conflitto, lo scontro legato a tutta una serie di tematiche gestionali e di scelta, appunto, delle forniture di case, eccetera, era diventato eccessivo, era diventato troppo grosso per loro. Oppure parlo di eiaculazione precoce, piuttosto che di anorgasmia nel momento in cui c'è l'avvicinarsi incombente, ad esempio, del matrimonio. Bene, i disturbi sessuali, quindi tutte le difficoltà che poi una coppia può sviluppare nel corso della sua storia, hanno sempre un significato relazionale, ovvero sono sempre correlati alla relazione e alla situazione specifica che la relazione in quel momento vive. E quindi diventano un ottimo strumento, un ottimo meccanismo per riuscire ad individuare che cosa non sta funzionando. Molto spesso, infatti, le coppie arrivano nella stanza di terapia e dicono abbiamo questo problema sessuale, c'è questa difficoltà, fino a prima magari le cose andavano bene, comunque eravamo entrambi soddisfatti, mentre adesso questa cosa non succede più. E molto spesso il link, diciamo, tra la motivazione, quindi la difficoltà che determina un conflitto, comunque una tematica che necessita di essere risolta, e il sintomo sessuale non è mai esplicito, cioè non è mai immediato, o meglio è molto raro. E quindi difficilmente si riesce a capire lato coppia, quindi in autonomia che cosa sta accadendo. Però il sesso, quindi il tema sessuale, i rapporti sessuali sono sempre un indicatore della bontà della relazione, cioè dello stato di salute della relazione. Quindi tramite l'aiuto di un professionista questa cosa può essere facilmente affrontata, nel senso che possono comprendere quali sono le cause, quali sono le conseguenze, quali sono le possibili soluzioni da mettere in atto per riuscire a sistemare la coppia e quindi poi conseguentemente anche ritrovare l'intesa sessuale perduta.